Ciao, sono Ludovico di MLS Replat. Oggi vi parlo dei tre nuovi aggiornamenti rilasciati questa settimana dal nostro settore informatico sulla piattaforma MLS. Innanzitutto, immobili. Nelle schede immobile dei vostri colleghi da oggi vedrete il nuovo pulsante Descrizione pubblicitaria. Cliccandoci vi verrà mostrato il testo pubblicitario inserito dall'agente immobiliare che ha caricato l'immobile in piattaforma. Questa descrizione vi sarà utilissima per conoscere meglio nel dettaglio l'immobile inserito dal vostro collega. Se non vedete il pulsante ovviamente non è stata inserita alcuna descrizione. Sempre all'interno delle schede immobile abbiamo poi migliorato il layout di stampa della scheda, sia nella versione riservata al cliente, sia nella versione riservata all'agenzia immobiliare. La modifica più significativa riguarda le foto che adesso sono ben 4 per ogni scheda. Infine abbiamo arricchito anche il vostro personal site. Da oggi infatti avete la possibilità di inserire un nuovo link a vostra scelta nel menu del sito. Potete metterci il link alla vostra personal app oppure il link alla pagina web di una società partner oppure quello che preferite. Per implementare questa novità vi basta andare nella pagina di modifica del vostro personal site e compilare i due nuovi campi link personalizzabile e indirizzo link personalizzabile. Anche per oggi è tutto, buon lavoro da MLS Replat.